I comuni impegnati nella redazione dei bilanci, il pagamento tra l'altro della tassa sui rifiuti. L'intervista alla sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, Irene Milisenda. Molti comuni siciliani anche nell'Agrigentino sono afflitti da gravi difficoltà finanziarie. Alcuni hanno dichiarato il dissesto finanziario come Portempedocle, Favare e Casteltermini. Altri invece, come per esempio il comune di Agrigento, sono ancora alle prese con l'approvazione del rendiconto 2016 e il bilancio preventivo 2017. Tanto che la presidenza della regione, di concerto con l'assessorato all'autonomia locale, ha pensato di inviare dei commissari ad acta nei comuni in difficoltà per risolvere i ritardi. A differenza di altri comuni, l'amministrazione comunale di Raffadali, presieduta dal sindaco Silvio Cuffaro, ha approvato lo schema di bilancio relativo al triennio 2017-2019, per un ammontare anno di circa 9 milioni di euro. Si tratta di un bilancio di entrate e uscite programmate, chiuso e in pareggio, su cui continuano a gravare tagli di Stato e Regione, che sono di uguale percentuale rispetto all'anno precedente. Avendo un bilancio approvato si riesce a programmare, a portare avanti l'azione amministrativa con slancio e con proficuità, cose purtroppo che non si possono fare quando uno è costretto ad amministrare con l'ordinaria amministrazione, non potendo né programmare né anche spendere. E anche la raccolta differenziata comincia a dare frutti sperati. Infatti il risparmio ottenuto grazie a un minore conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati ha prodotto la riduzione media del 28% per ogni bolletta. Le famiglie con più componenti avranno un risparmio di circa il 26%, mentre i nuclei familiari con un solo componente arriveranno ad un abbattimento di circa 32%. Un ulteriore incremento in percentuale dei rifiuti differenziati farebbe abbassare ulteriormente il costo del servizio in bolletta. La Tari arriverà tra poco nelle case dei cittadini raffadalesi. Rispetto al 2016 avrà un risparmio che va dal 26 al 30% e penso che sia un ottimo risultato. Non siamo scesi sotto il 70% anche nel periodo estivo e questo per me è un motivo di orgoglio in bolletta di sindaco e di questo devo ringraziare i miei concittadini che hanno voluto e aspettavano con ansia che iniziasse questo tipo di raccolto. Sono molto sensibile raffadalesi all'ambiente e lo hanno dimostrato sin dal risultato ottenuto dal primo mese in cui il servizio è partito. Già al primo mese avevamo il 69% quindi questo dimostra che i raffadalesi l'hanno fatta bene e continuano a farla bene.